Grazie, Presidente, gentili colleghi, signori del Governo. La presentazione di questa mozione da parte del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle nasce da una preoccupazione che abbiamo già avuto modo tante volte di manifestare in numerosi atti parlamentari, in merito ad esempio della crisi del settore manifatturiero o in tema anche di industrializzazione. La preoccupazione è quella che l'Italia rischia di perdere aziende strategiche e fondamentali per il suo sviluppo economico, ma potrei dire per il nostro sviluppo. Noi vorremmo invece evitare che ciò avvenga e per questo ribadiamo la nostra contrarietà alla vendita delle residue e quote pubblico di imprese come Enel, Finmeccanica, Poste, Ferrovie, Fincantieri, delle reti del gas, della luce, di SNAM, Terna e delle reti RFI e di Telecom. Queste aziende sono una risorsa e non certo un peso per il Paese di cui sbarazzarsi. Se mai lo dico qui per inciso, ma è un tema su cui si dovrebbe aprire una riflessione, una riflessione seria. Sarebbe il caso di interrogarsi soprattutto sull'operato di certi manager pubblici di queste e di altre imprese che a fronte di stipendi milionari, che spesso sono stati più volte tema di trasmissioni anche di scandalo per i numeri e proprio per quanto questi percepiscono a fronte di un periodo di crisi così importante come in questi anni. E spesso hanno fatto dei veri e propri disastri, ma poi, guarda caso, non ne hanno quasi mai pagato le conseguenze. Anzi, in taluni casi, questi manager, che poi sono sempre gli stessi e passano di società pubblica in società pubblica, quando addirittura non sono presenti contemporaneamente in più consigli di amministrazione. Dicevo, questi manager sono addirittura ricompensati con liquidazioni milionari per i fallimenti di prodotti. Alla faccia della meritocrazia, che qua più volte in quest'Aula, nelle commissioni, è sempre stata richiesta, è sempre stata richiamata. È una meritocrazia che dovrebbe essere di esempio da noi parlamentari, nelle nostre aziende pubbliche, che invece rimane soltanto una parola e rimane soltanto un buon proposito e mai si concretizza veramente nella nostra realtà quotidiana. C'è infatti proprio, c'è da rimanere sconcentati. Le privatizzazioni sono una cosa seria, ma noi non ci fidiamo di questo Governo e temiamo che, qualora le facesse, sarebbero una svendita di fine stagione, utile solo ad incassare qualcosina oggi, ma rinunciando ad utili più ben consistenti nel futuro. C'è il rischio, infatti, che saranno le grandi multinazionali stranieri ad approfittare di questa svendita. E così facendo perderemo pezzi consistenti di aziende italiane, che sono sane e sulle quali il Governo dovrebbe iniziare a investire veramente in ricerca e sviluppo. Vorrei aprire una parentesi per ricordare quanti gli investimenti in ricerca e sviluppo siano veramente gli investimenti che portino a maggiore ripresa dell'economia, gli investimenti che fanno restare i nostri giovani, i nostri talenti, i nostri cervelli, i nostri ricercatori. Sono gli investimenti che permettono di farci conoscere nel mondo, sono gli investimenti che permettono di darci quella competitività di cui siamo sempre stati famosi, ma che purtroppo oggi rimane per molti versi un solo ricordo. Allora, le privatizzazioni devono essere fatte in maniera strategica, pensando al futuro, ma non in maniera tattica, per trovare magari le coperture finanziarie per la finta abolizione di qualche tassa o imposta, quando poi sappiamo bene che alle tasse il Governo ha cambiato semplicemente nome, ma non le ha certo tolte, non le ha certe ridotte, come si era prefisso di fare. Il Governo Letta naviga a vista, lo sappiamo bene, sembra in perenne campagna elettorale, le sue iniziative sono di corto respiro e quindi non è assolutamente in grado di poter ben operare ad un piano serio di privatizzazione. Se oggi in effetti si svendesse quello che resta del patrimonio pubblico italiano, ciò a differenza di quanto sostiene il Governo non servirebbe ad abbassare il debito, perché questo patrimonio sarebbe acquistato dagli stessi soggetti finanziari e imprenditoriali che controllano il debito pubblico italiani e che su di esso hanno speculato. E poi mi domando perché mai dovremmo vendere aziende sane, strategiche, consolidate nel tempo, grazie al lavoro e sacrificio economico, alle tasse pagate da più generazioni di italiani. Perché mai, specie in una fase di recessione così pesante, con una disoccupazione a livelli record, dovremmo depauperare l'indotto, formato magari da piccole e medie imprese, che esiste attorno a queste grandi aziende. In attesa che il Parlamento si pronunci sui provvedimenti regolamentari che permettono al Governo di attuare la Golden Power, è necessario fin da ora che il Governo stesso adotti politiche di tutela del patrimonio industriale italiano, invece di svenderlo, causando un danno irreparabile della nostra economia. Invito invece il Premier Letta e i Ministri ad intervenire sulle cause, alcune molto lontane, mentre altre più recenti, che impediscono al nostro Paese di essere competitivo sul piano internazionale. E mi riferisco ad esempio alle cause che tutte abbiamo sempre detto all'eccessiva burocrazia, all'altissima pressione fiscale, al gap infrastrutturale tra Nord e Sud, alla rastituazione del credito da parte delle banche verso le imprese, alla corruzione dilagante, alla criminalità organizzata, all'evasione fiscale, ai mancati tagli della spesa improduttiva. E ricordiamoci soprattutto che quando parliamo di delocalizzazione, quando parliamo delle aziende che vanno via, ormai esistono miti che spiegano perché se ne vanno via, miti che ormai non sono più veritieri. Molti ci raccontano che la maggior parte delle aziende delocalizza perché la mano d'opera in altri Paesi costa molto meno. È vero che ci sono Paesi dove la mano d'opera costa molto meno. Ma a ditarlo come la principale causa è falso. È strumentalizzare la delocalizzazione. Le 27 mila aziende che dal 2009 ad oggi hanno delocalizzato non l'hanno fatto certo nei Paesi dove la mano d'opera costa meno, ma al primo posto nei Paesi, nel rank dei Paesi dove hanno delocalizzato, sono posti dove la mano d'opera non costa meno, perché sono la Francia, sono la Svizzera, sono l'Austria, sono la Slovenia, dove la mano d'opera non costa meno, ma dove è molto più facile fare impresa, dove un governo aiuta chi vuole fare impresa e aiuta le imprese. Tornando al nostro provvedimento, alla nostra mozione, se il governo vuole fare cassa, come si suol dire, è proprio sui fattori che citavo poc'anzi, di retratrezza economica che deve intervenire, e non certo privandosi delle sue migliori aziende, visto tra l'altro che abbiamo già perso il controllo nel corso degli anni di tante aziende che erano il fiore all'occhiello del Made in Italy, a livello internazionale, in campo agroalimentare della modo, del lusso e della meccanica. Qualche nome per dare un po' concretezza a quello che dico, sicuramente non degli elenchi del Movimento 5 Stelle, ma preso dagli elenchi di Confindustria. Posso citare i nostri gioielli che se ne sono andati all'estero, Bulgari, Polmellato, Parma, Latavio, Edison, Giugiaro, Ducati, Lamborghini e così tante altre, aziende che sono sempre stati quei portavalori della nostra creatività, della nostra italianità. Alla luce di queste considerazioni, il Movimento 5 Stelle con questa mozione intende impegnare quindi il Governo a non procedere alla messa sul mercato delle residue quote pubbliche delle grandi società partecipate. Anzi, chiediamo che esso adotti un piano di ottimizzazione della società partecipata dirette e indirette dello Stato, al fine di valorizzarle, di renderle più competitive nel mercato interno e internazionale. Per fare ciò, a nostro avviso, il Governo deve adottare un piano industriale che promuova, attraverso misure di fiscalità di vantaggio, la ricerca e l'innovazione e la tutela del made in Italy in qualsiasi settore produttivo. E infine, chiudo, specie nei delicatissimi settori dell'energia e delle comunicazioni, dove sono in balla non solo gli interessi, ma anche la sicurezza nazionale. Chiediamo che da parte del Governo, in base ai poteri previsti della Gondel Power, ci sia una vigilanza attenta. Ma lo chiediamo subito. Mi chiedo quante aziende dovranno ancora andarsene, quanti talenti dovremo ancora perdere, quanti giovani dovranno ancora emigrare per trovare un giusto valore alla loro potenzialità. Io con questo chiudo e lascio veramente una riflessione su quanto ho esposto fino ad ora, perché proprio le nostre aziende, il nostro made in Italy è sicuramente la soluzione, è sicuramente la leva che noi dovremo usare per rilanciare ormai la nostra bassa economia. Grazie.